Un evento per riproporre il tema della ripubblicizzazione del servizio idrico all'agenda politica. L'iniziativa in programma per venerdì 20 ottobre alle 21 alla Borsa Merci di Arezzo. Parleremo e ci sarà anche il professor Lubina che è un esperto in materia proprio per ripubblicizzazione e spiegherà anche i metodi che sono stati utilizzati in Francia proprio per la ripubblicizzazione. Interverranno anche l'onorevole Francesca Daga, il nostro consigliere Giacomo Giannarelli, inoltre il professor Lubina, per non scordarmi tutti i nomi, Nicola Ceravolo e Luca Agostini. Chiediamo anche al sindaco Ghinelli di intervenire visto le sue promesse in campagna elettorale sulla ripubblicizzazione che poi sembra che non sia in grado di mantenere. Quindi se vuole venire a intervenire ben lieto. Che è un tema così importante per voi? Non solo per noi ma anche per i cittadini che si sono già espressi attraverso un referendum e quindi sarebbe il caso di dare seguito alle richieste dei cittadini.